Dall'11 al 14 settembre, 21esimo Paglio dei Mussi a Teglio Veneto. Giovedì 11 alle 19 e 30, presentazione libro Osteria da Guerrino. Venerdì 12 alle 15 e 30, Agribus e Cooking Show. E alle 21 lo spettacolo teatrale, Cenerentola. Sabato 13 alle 21 e 30, il grande concerto dell'orchestra Giovani Musicisti Veneti, con 90 elementi, uno spettacolo da non perdere. Domenica 14 alle 9, la terza marcia del Paglio. E alle 17 e 30, spettacolo teatrale, Gigi e Domenico. A seguire, 21esimo Paglio dei Mussi. Per le strade del paese, esposizioni artistiche, antiquariato e artigianato e antiche macchine agricole. Tutte le sere, cucina aperta. Dall'11 al 14 settembre, 21esimo Paglio dei Mussi a Teglio Veneto.